Buongiorno, buon pomeriggio e ben arrivati a questo incontro organizzato dal Consorzio italiano compostatori dalla terra alla terra e questo il titolo del convegno che ci accompagnerà questo pomeriggio per affrontare diciamo il tema del suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita io sono Luca Zorloni sono il responsabile economia e internet di Wired e sono molto contento di darvi il benvenuto a questa giornata e sono dei lavori che svolgiamo questo pomeriggio in occasione della ricorrenza che cade domani la giornata mondiale del suolo una ricorrenza una celebrazione che dal 2014 la FAO ha istituito per ricordare per promuovere il ruolo fondamentale che ha il suolo nello sviluppo e nella vita quotidiana di ciascuno di noi questo tra l'altro è un evento tradizionale per la famiglia del Consorzio italiano compostatore che si dovrebbe svolgere dal vivo ad Assisi che è ormai diventata la seconda casa di questo momento di riflessione e purtroppo quest'anno per i motivi chiaramente conoscete va online ma è un modo come un altro appunto per non perdere l'occasione per tenere alta l'attenzione su questi temi vitali ringraziamo Ricicla TV che ci ospita ma ci potete seguire anche su Facebook oppure attraverso l'hashtag dalla terra alla terra su Twitter sul profilo ufficiale del Consorzio Allora sarà una giornata molto ricca quella di questo pomeriggio perché parleremo di molte tematiche dal Green New Deal quindi insomma dalle sfide che la politica si pone al ruolo stesso della sostanza organica per conservare e migliorare la qualità dei suoli faremo anche in qualche modo una capatina virtuale ad Assisi per conoscere gli sviluppi di Frasole che è un progetto di sostenibilità presso proprio il complesso monumentale del Sacro Convento di Assisi e che vede la collaborazione proprio del Consorzio e cercheremo anche di comprendere il valore economico di questo settore perché il suolo risorsa naturale preziosissima considerate che ci vogliono circa 2000 anni per rigenerarne a pieno titolo 10 centimetri e anche per l'Italia un importante motore economico vi riporto alcuni numeri che ha proprio registrato il Consorzio nel 2018 per esempio il volume d'affare generato di questo di quest'area del mondo diciamo del compost è stata di 1,9 miliardi di fatturato 10.600 posti di lavoro e circa un posto e mezzo di lavoro generato ogni mille tonnellate di rifiuto organico quindi un importante asset su cui bisogna anche impostare e costruire un'economia nuova allora il programma in breve io fra poco passerò la parola a Massimo Centemero al direttore del Consorzio per fare gli onori di casa dopodiché interverranno in sequenza Mario Buonaccorso che è coordinatore del cluster nazionale chimica verde Spring Claudio Ciavatta ordinario di chimica agraria presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna poi il coordinatore scientifico del progetto Frasole Walter Ganapini e padre Antonello Fanelli che invece al Sacro Convento di Assisi insomma accordi al progetto sostenibilità avremo poi con noi Marco Giacomazzi policy officer dell'European Compost Network e Lella Miccolis amministratore unico della Progev SRL termineremo infine con un saluto dagli Stati Uniti da parte di Frank Franciosi che è il managing director dello US Composting Council e al termine ci sarà anche lo spazio per qualche vostra domanda quindi tenetele pronte e in caldo perché cercheremo di rispondere a tutti allora io a questo punto do la parola a Massimo Centemero che ringrazio e saluto perché insomma posso aprire i lavori di questo nostro pomeriggio dalla terra alla terra prego Massimo grazie grazie tante grazie Luca e un saluto a tutti un ringraziamento ai relatori che mi seguiranno io ho solo il compito di introdurre questi lavori magari come dire facendo due parole e aggiungendo un po di parole chiave poi come dire potranno essere anche oggetto di domande al termine la prima considerazione è che ormai siamo al quarto anno è vero la FAO ha istituito la giornata mondiale del suolo nel 2014 nel 2015 è uscita l'enciclica del Papa Francesco e noi abbiamo preso un po la palla al balzo perché è chiaramente un testo fondamentale per chi lavora nel settore ambientale quindi diciamo quello che diciamo un driver eccezionale anche da una come dire dal capo della cristianità nel mondo e il 2017 abbiamo organizzato in presenza ci abbiamo ospitati il Sacro Convento abbiamo voluto appunto commentare l'enciclica papale all'interno del Sacro Convento con la tematica suolo che di fatto quindi il 5 dicembre del 2017 abbiamo fatto questa prima giornata quest'anno è la quarta anticipiamo di un giorno perché la giornata mondiale del suolo è domani ma ci veniva ci veniva bene farla il venerdì pomeriggio e non il sabato quindi ne parliamo oggi pomeriggio ma la giornata da celebrare è sostanzialmente domani e il tema è il suolo solo anzi aggiungiamo qualcosa di più del suolo nel senso che in primo luogo noi ci siamo accorti in Italia per chi lavora nel mio settore quindi nel settore del riciclo organico magari utilizzeremo anche la parola che è anche molto bella perché riciclo organico rifiuto organico forse suona male ma la parola inglese bio waste suona magari meglio ok utilizziamo la parola inglese bio waste per chi lavora nel settore del bio waste sa benissimo che l'Italia è cresciuta ed è nel mondo un paese faro un paese è come dire che riesce a fare scuola sia a Bruxelles quindi parlo di Europa tanto è vero che oggi ci sono c'è Marco Giacomazzi quindi i miei colleghi del del European Compost Network all'interno del quale io sono ormai da direttivo da alcuni anni e poi ringrazio anche Frank Franciosi che lo sentirete non lo pronuncerà così perché il cognome è chiaramente di origine italiana non lo pronuncerà così il suo cognome ma è il mio corrispettivo dell'U.S. Composting Council il suolo perché la sostanza organica perché noi ci siamo accorti che davvero il suolo non è nelle normative italiane non nelle strategie nazionali la soia strategia in Europa è stata abbandonata nel 2006 poi non è stata più ripresa il nostro codice ambientale contiene tutte le norme le regole per le acque per i rifiuti per le bonifiche e per l'aria ma non contiene regole strategie per il suolo e noi forse Ganapini è quello che il professor Ciavatta e quelli che storicamente mi conoscono meglio sono almeno una quindicina ventina di anni che noi sollecitiamo il come dire il mantenimento della sostanza organica del suolo perché la sostanza organica del suolo è vita nel suo del terreno ma la vita del terreno significa vita delle piante significa vita dell'uomo quindi è nel suolo quindi questa piccola percentuale il 2 3 per cento di fatto è quella che fa girare quella che fa girare l'universo perché in questa piccola percentuale c'è come dire la chiusura di tutti i cicli della natura e chiaramente noi ci siamo interessati perché perché chiaramente andando produrre a trasformare questa risorsa quindi non chiamiamolo rifiuto ma questa risorsa eh questo biowaste lo trasformiamo in in un fertilizzante che va a attenuare tutta una serie di fenomeni eh climatici che chiaramente portano alla perdita di sostanza organica ormai da da decenni e quindi eh è qui che eh noi come dire vogliamo concentrare l'attenzione per eh mettere in atto delle politiche delle strategie al fine di attenuare questi fenomeni di perdita di sostanza organica ma attenzione non è solo una perdita eh che ha come dire dei significati ambientali quindi legati al climate change ma è una perdita legata anche alla al valore agronomico di un suolo perché ripeto la sostanza organica ha eh una miriade di benefici da una miriade di benefici a quelle che sono le attività ordinarie di un di un suolo o di un'attività agricola eh adesso dedicata quindi eh in primo luogo ringrazio ancora tutti i relatori ringrazio il progetto Frasole che come dire miracolosamente ci ha un po' uniti in questa eh in questa avventura e noi con loro abbiamo costruito un progetto per dimostrare come eh in un ciclo chiuso quindi eh prendendo modello la circolarità che è quella legata alle attività del sacro convento che di fatto ha una eh una mensa un refettorio che ospita 80 100 120 persone quindi produce dello scarto organico alimentare e la selva quindi tutta la parte della eh come dire dell'uliveto e che produce anche lì dello scarto organico hanno degli orti quindi hanno una necessità di sostanza organica abbiamo fatto una piccola esperienza e eh da due o tre mesi stiamo già producendo il compost circolare del sacro convento quindi io ehm come dire vorrei iniziare eh prima degli interventi dei relatori lanciando questa giornata celebrando la giornata mondiale del suolo ma lanciando quello che è stato per noi un gesto simbolico l'abbiamo fatto con un po' di difficoltà perché chiaramente non ci siamo potuti muovere vedrete delle mascherine però questo è il periodo che stiamo vivendo ma abbiamo eh beh io direi vediamo il filmato dai non voglio svelarvi niente ma abbiamo valorizzato la sostanza organica di scarto del sacro convento vediamo come il compost all'interno del progetto frasole viene fatto con gli scarti che ogni giorno eh la mensa eh del sacro convento produce e miscelati con eh delle potature di manutenzione del verde questa miscela ogni mattina viene messa all'interno dei compostatori dove eh i nostri amici batteri eh microrganismi vari funghi ci aiutano a trasformare eh questo materiale in fertilizzante poi il materiale viene spostato e messo nel cumulo di maturazione per altri due o tre mesi il materiale eh setacciato è quello che noi chiamiamo compost allora qui in Umbria l'olivo è un albero di casa e possiamo potremmo dare tantissimi significati a partire proprio dal valore dell'olio che produce la vita perché perché l'olivo producendo l'olio produce un alimento qualcosa di buono per la nostra vita e la bellezza perché se osservate forse l'albero dell'olivo è uno degli alberi più belli lo dico da Umbro il progetto frasole pensato qui proprio dai frati la comunità del sacro convento nasce in risposta in qualche modo una sorta di risposta alla laudato sì di papa francesco che cosa possiamo fare anche noi questa è la domanda di fondo il CIC è un'organizzazione non governativa la più grande in questo settore in Italia promuove eh la pratica del riciclaggio dei rifiuti organici svolge un ruolo a tutto campo per sostenere questo segmento industriale è da lì che noi abbiamo come dire il nostro alimento il pane quotidiano potremmo dirci è minacciato dal nostro egoismo prenderci cura di ciò che è stato messo a nostra disposizione nel nostro caso la terra prendersi cura del terreno che poi ci alimenta e ci governa ecco è il nostro impegno il suolo è una risorsa importante perché è la fonte anzitutto di tutta la nostra alimentazione noi compostatori riteniamo di dover svolgere un ruolo importante celebrare la fertilità del suolo attraverso la restituzione al suolo della sostanza organica prodotta con i nostri rifiuti alimentari questa giornata è una iniziativa veramente importante a cui noi teniamo perché sottolinea al mondo l'importanza di questa risorsa il messaggio che possiamo mandare ad Assisi è che se tutti e questo possiamo farlo tutti ci impegniamo a fare qualcosa per custodire il creato ci sarà di grande aiuto per poter dare una risposta alle necessità alle urgenze del nostro tempo eccoci tornati in studio dopo questo video molto bello che ci ha riavvicinato con Assisi a questo punto possiamo entrare nel vivo dei lavori e delle relazioni a me piace partire da una parola che ha detto Massimo Centenero risorsa quindi questo valore che può acquisire la risorsa organica nella costruzione di una economia circolare che è un po' più un pilastro oggi forse uno dei pilastri su cui si fondano nuovi modelli economici di crescita allora di questo per lanciare insomma un po' questi temi e capire quali sono le direttrici di sviluppo della bioeconomia io voglio chiamare a raggiungermi ad aprire i lavori Mario Bonaccorso come diceva appunto coordinatore del cluster nazionale chimica verde spring buon pomeriggio ben arrivato buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti e grazie al CIC per l'invito io inizierei da un principio se volete un principio banale ma che è assolutamente vero ovvero che senza solo non c'è agricoltura e senza agricoltura non c'è bioeconomia circolare l'agricoltura non solo è un pilastro della bioeconomia considerata come metà settore che ne mette insieme moltissimi ma appunto l'agroalimentare, l'agricoltura ne rappresenta moltissima parte ma l'agricoltura è anche uno dei settori che maggiormente beneficia e potrà beneficiare delle applicazioni dei bioprodotti qualche anno fa in Inghilterra è stata svolta un'analisi da questo punto di vista via economy snapshot che indagando in un centinaio di manager di grandi imprese identificava proprio nell'agricoltura il settore che maggiormente beneficerà dello sviluppo dei bioprodotti quindi parliamo di biofertilizzanti, parliamo di teri di faccia matura, di bioidicidi e così via ma vorrei anche partire da alcuni dati poi ci sono oggi relatori che probabilmente potranno andare più nello specifico che sono sicuramente molto più esperti di me però ci sono dei dati che dobbiamo considerare che ci devono fare riflettere moltissimo allora la FAO ci dice che il 33% del suolo oggi è degradato che in 200 anni il carbonio organico del suolo ha registrato una perdita stimata a livello globale ci sono altri dati che ci dicono che il 21,3% del territorio in Italia è a rischio di esertificazione quindi sono dati davvero impressionanti che ci fanno capire come oggi sia importante agire e agire immediatamente. Un altro dato che credo sia importante che è contenuto sempre nel rapporto ISPRA 2020 è la perdita che è registrato l'agricoltura in 7 anni dal 2012 al 2019 che ammonta circa 7 miliardi di euro. Quindi sono dati che ci fanno capire davvero che è il tempo di agire e la bioeconomia circolare da questo punto di vista rappresenta un modello di sviluppo che ci consente di superare il modello dissipativo per indirizzarci verso un modello conservativo in grado di tutelare il nostro ambiente. Da questo punto di vista noi diciamo la bioeconomia circolare riconcilia l'economia con l'ambiente. Allora l'altro tema importante credo sia capire cosa oggi si sta facendo a livello anche europeo, a livello italiano e cosa la bioeconomia circolare oggi sia in grado di fare per riportare quello che diceva Massimo Centemero, la sostanza organica nel suolo. La strategia ad esempio, la nuova strategia aggiornata nel 2018 dalla Commissione europea assegna un ruolo importantissimo al risultato organico e partendo da uno studio compiuto nella città di Amsterdam, Circo in Amsterdam, effettua una stima del valore aggiunto che potrebbe portare all'economia europea un sistema di riutilizzo del risultato organico nelle 50 maggiori città del continente. Da questo punto di vista abbiamo dati molto interessanti che riguardano sia il valore aggiunto all'economia che è stimato in 12 miliardi di dollari all'anno, sia nel campo della riduzione delle emissioni di CO2, 50 milioni di tonnellate, anche questo in un solo anno, e poi la creazione di 100 mila posti di lavoro nel medio-lungo periodo. Quindi è questo che fa la bioeconomia circolare, ma non solo, nel campo della tutela del suolo la bioeconomia circolare, così come lo intendiamo noi, nel modello di sviluppo e nel modello economico e sociale che anche il classe Spring porta avanti nel nostro paese, si basa sulla riconversione di siti industriali e di smessi. E questo credo sia un altro elemento molto importante da considerare. Sicuramente il cluster ha il tema del suolo al centro della propria azione, non solo la Presidente Katia Bastioli, che è anche amministratore delegato di Novamont, siede nel board del Mission Soil Health a livello europeo, ma abbiamo anche il piacere oggi di avere nel board del cluster Massimo Centemore, e questo sicuramente rafforza la nostra azione per tutelare il suolo, il quale, lo ripeto, è alla base della bioeconomia circolare. Ci sono altri studi da questo punto di vista che riguardano sempre la bioeconomia, uno di questi è di qualche anno fa, 2017, della Fondazione Nel Mercartur, dove ancora una volta veniva ribadito l'importanza della corretto utilizzo del rifiuto organico come materia prima per bioraffinerie municipalizzate e il dato, anche qua, è un dato drammatico, 1,3 miliardi di tonnellate di rifiuti prodotti annualmente nelle città a livello mondiale e la metà di questo è il rifiuto organico. Quindi c'è un grande potenziale, Milano è considerata da questo rapporto come un modello, Milano che è un'esperienza che il CIC conosce molto bene e per quello che compete il cluster certamente noi agiremo sempre per poter andare nella direzione di un utilizzo ottimale del rifiuto organico e soprattutto per replicare quelli che sono i modelli virtuosi che si sono via via realizzati nei diversi territori. Io credo e finisco che anche il fatto che veniva richiamato in apertura per cui a differenza degli altri anni ci ritroviamo qua in questo convegno a incontrarci in modalità virtuale abbia a che fare con processi di urbanizzazione e deforestazione che hanno posto l'essere umano a contatto con patogeni che in precedenza non conoscevamo e che sono anche potenzialmente mortali. Io credo che questo sia un tema veramente centrale e che sia un compito, un dovere di tutti noi agire per ribaltare quello che è il modello che fino a qui ci ha guidato a favore di un modello più vicino a quelle che sono le tematiche della tutela dell'ambiente, della tutela della salute non solo umana ma anche degli animali. E da questo punto di vista, ripeto, il cluster vuole essere oggi un attore a fianco di tutti gli altri per muoversi in questa direzione. Molto grazie, grazie mille perché è molto importante che si crei questo messaggio che l'ha trasmesso di lavoro di squadra, di gioco di squadra per riuscire ad affrontare delle sfide che semplici non sono e che però si possono fronteggiare solo se tutti fanno in qualche modo team tra di loro. Tra l'altro c'è un altro, questo punto che ha fatto buon accorso sulla perdita di risorse, si traduce tra l'altro in un impoverimento dei suoli che in qualche modo fa perdere fertilità e penalizza e mette in difficoltà quella che è la produzione agricola. Allora io a Claudio Ciavatta che è ordinario di chimica agraria appunto all'Alma Mater Soliorum di Bologna, vorrei chiedere se un po' ci dipinge quali può essere il modo, quali possono essere i numeri e le conoscenze che voi avete sulla situazione attuale e quale può essere una strategia e come in questo senso anche in realtà come il consorzio e come questo genere di politiche possono aiutare per fare insomma un'inversione a U e cercare di non andare verso situazioni ancora più gravi. Allora io le passo la parola come tutti i relatori con una decina di minuti per esporre la sua tesi e le sue argomentazioni. Deve immagino togliere il muto al microfono? perché io non la sento in questo momento. Eccomi qua. Eccoci professore, benissimo. A lei la parola allora. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, a coloro che ci ascoltano, io sono molto contento, felice di poter, di essere stato invitato, di poter trattare alcuni aspetti che riguardano il suolo e la componente organica. Ho intitolato la relazione suolo e sostanza organica, un binomio inscendibile. Vorrei poterlo sostanziare e lo si può sostanziare in modo direi anche piuttosto semplice, anche se il suolo è un sistema molto molto complesso. Innanzitutto vorrei dire che noi parliamo sempre di suolo al singolare, ma in realtà il suolo di fatto si declina attraverso un plurale, perché i suoli, di suoli ne abbiamo di diversi tipi e ciascuno è un organismo che ha gli stessi principi di funzionamento, ma si può esprimere in maniera diversa. Soprattutto questa espressione è diversa nei termini che vedremo di fertilità. In questo contesto è già stato detto che di norma la sostanza organica del suolo rappresenta una piccola frazione, una piccolissima frazione di qualche punto percentuale rispetto al totale. Infatti è una delle tre fasi del suolo. La voce da padrone, diciamo, la svolge la componente minerale, ma questa piccola frazione di fatto è fondamentale per il suo funzionamento. Quindi piccola ma estremamente importante. Perché? Perché senza sostanza organica di fatto il suolo non può funzionare, perché il suolo è un sistema vivente. Essendo un sistema vivente ed essendo ospitato da miliardi di miliardi di microorganismi che fondamentalmente hanno bisogno di carbonio organico come fonte energetica. Quindi l'assenza, la carenza di sostanza organica limita la funzionalità del suolo in tutte le sue espressioni. La massima espressione è legata alla fertilità del suolo. Questa fertilità che già a metà ottocento veniva definita come l'ammirabile capacità che il suolo produrre. Secondo me è una frase bellissima questa. Poi successivamente con il progresso delle scienze, della chimica, biochimica, microbiologia, si è visto che appunto il suolo è chiamato a fornire gli elementi nutritivi alle piante per poter crescere. Ricordiamo che la vita sul pianeta è legata assolutamente alle piante, all'apparato fotosintetico perché solo attraverso la fotosintesi si può trasformare l'energia luminosa in energia chimica. Quindi è fondamentale questo aspetto legato alla sostanza organica. La sostanza organica appunto consente a un suolo di nascere, di svilupparsi e di vivere. Quindi questo concetto di suolo e sostanza organica è un concetto indissolubile. Pertanto tenuto conto delle importantissime funzioni che svolge la sostanza organica non solo in termini di produttività ma anche in termini di capacità che il suolo attraverso i processi di ossidazione che avvengono è in grado anche di degradare, demolire le molecole che a noi possono portare anche qualche problema come gli inquinanti organici, gli xenobiotici. Quindi è fondamentale sulla funzionalità dell'ecosistema. Pertanto potremmo riassumere sostanza organica, fertilità del suolo, salute del suolo. Se un suolo in salute è in grado anche di produrre prodotte di qualità e se abbiamo a disposizione prodotte di qualità sicuramente ne trarremo vantaggio come specie umane in termini di salute. Velocissimamente è già stato detto che in Europa i suoli hanno perso progressivamente sostanza organica, non da ora. È un processo che è legato fondamentalmente al mutamento della zootecnia, quindi questo è un aspetto che sicuramente è da discutere. In Italia un quinto dei suoli italiani è a rischio di desertificazione perché quando si scende al di sotto dell'1% di carbonio organico questo è il rischio. La mia regione, l'Emilia-Romagna, è una regione in pianura padana ma così come altre della pianura stessa hanno suoli che sono all'interno dell'intervallo a rischio desertificazione. Quindi non è un problema dell'area mediterranea stretta. È un problema che è più ad ampio raggio. Solo un cenno. Qui in questo grafico vediamo la parte rossa rispetto alla parte blè. È la variazione di temperatura sul pianeta legata a partire dal 1880 fino ai giorni nostri. Comunque la si pensi è indubbio che le temperature sono in aumento e perché porto questo esempio? Perché la temperatura è un fattore cinetico, quindi che aumenta la velocità di degradazione, la velocità delle reazioni chimiche, ma nel nostro caso aumenta la velocità di mineralizzazione della sostanza organica, quindi della sua trasformazione in anidride carbonica. Altro problema legato alla carenza di sostanza organica è l'erosione dei suoli. L'erosione è un fenomeno gravissimo perché fa perdere suoli, fa perdere lo spessore, parte dello spessore di suolo. È come avere delle uscite dal conto in banca sistematiche, senza spendere, ma ci sono le uscite. Quindi cala la potenzialità del suolo in maniera irrimediabile. Allora, in un sistema razionale, sostenibile, in un sistema circolare, quello che parte dal suolo deve tornare al suolo. Qui ho indicato con molto piacere il compost, che è una componente organica molto importante per dare di nuovo sostanza organica al suolo. Qui un tempo, se avessimo proiettato questa slide 20-25 anni fa, avremmo scritto letame. Ora è inutile nasconderci che il letame, certo, chi non lo vorrebbe, ma le mutate condizioni non consentono in tantissime parti dei nostri territori di averlo, per tanti motivi che non sto qui a trattare per mancanza di tempo. Comunque il compost può essere un valido sostituto in termini di componente organica. Poi vorrei dire qualcosa circa alcuni dubbi che sorgono quando si parla di ridare sostanza organica al suolo. Molti avanzano dubbi sulla qualità, sulla sicurezza. Allora, vorrei essere molto chiaro. Se un prodotto viene commercializzato, viene prodotto ai sensi delle norme nazionali ed europee che abbiamo, e qui sono riportate, c'è una condizione preventiva prima che questo materiale possa entrare in commercio. Cioè che in qualsiasi prodotto non deve avere effetti, provocare effetti negativi sulla salute dell'uomo, degli animali, sulla salute delle piante e in generale dell'ambiente. Quindi, quando un prodotto è commercializzato ai sensi delle norme, questo è un prodotto sicuro. Altrimenti, anche quando ci richiamo al supermercato, dovremmo mettere in dubbio tutti i prodotti che troviamo sullo scaffale. Qui ho riepilogato quali sono i vantaggi nel riutilizzare, nel fare dell'economia circolare che riguardino la componente organico, quindi la bioeconomia. Allora, recuperiamo carbonio organico, recuperiamo azoto organico, recuperiamo fosforo organico, recuperiamo zolfo organico e anche tutte le frazioni minerali contenute. Recuperiamo i microelementi, che sono tra l'altro complessati o chelati, quindi maggiormente biodisponibili. Miglioriamo l'efficienza dei nutrienti, quindi riduciamo la quantità che dobbiamo immettere nel suolo per alimentarlo, garantiamo la quantità e la qualità delle produzioni agricole, conserviamo e aumentiamo la fertilità e la salute dei suoli, quindi garantiamo un uso razionale e sostenibile delle risorse. Scusate se è poco. Questa è una slide a cui tengo molto, ma non per una questione personale, perché c'è una sorta di diatriba fra coloro che vorrebbero termovalorizzare certe biomasse ed altri che non lo vorrebbero. Non si tratta di prendere posizione come lo si può fare a livello di un partito politico. Qui il punto è, siccome i suoli hanno bisogno di carbonio organico, non siamo come chimici agrari, come agronomi, non siamo assolutamente d'accordo che biomasse che possano essere usate nei suoli possano e debbano essere termovalorizzate. Per un semplice motivo, perché manderemo in atmosfera direttamente il carbonio come CO2, perderemo l'azoto organico come NOx, trasformeremo il fosforo organico in inorganico, quindi di fatto praticamente non utilizzabili dalle piante e perderemo anche i composti dell'osolfo. Mentre siamo assolutamente d'accordo che tutto ciò che non si può valorizzare in agricoltura, se presenta problemi debba essere sicuramente termovalorizzato. Infine, vorrei dire che ad esempio la ricerca che lavora da tempo, da sempre, su queste tematiche, anche sul compost, ho preso qualche dato a livello mondiale sulle ricerche in corso, guardate, solo nel 2019 e anche già a ottobre 2020, il trend dei lavori scientifici pubblicati a livello mondiale, restringendo anche il termine fino a compost, che è questa parte più contenuta, sono a livello di migliaia. Quindi la ricerca c'è, le consenze ci sono, basta volerle applicare. La normativa europea e nazionale ci tutela in questo senso, questo è il nuovo decreto 2019 che entrerà in vigore nel 2022, che qualsiasi prodotto, incluso il compost che ha assunto a una categoria di materiale con cui poter fare i fertilizzanti, è sicuro. La stessa normativa italiana, nel momento in cui si dovesse accorgere che c'è qualche problema, può intervenire. Quindi, infine, quali sono le possibili azioni agronomiche da mettere in atto per conservare la sostanza organica del suolo? Alcune sono conosciute da sempre, dal tempo di Columella, quindi sono oltre 2000 anni e fanno parte del DNA degli agricoltori. Allora, innanzitutto bisogna ridurre l'ossidazione. L'ossidazione della componente organica si può ridurre, limitando la profondità e il numero di lavorazioni del suolo, del terreno. Bisogna apportare, quando è possibile, sostanza organica stabile, matura, cioè umificata. Il compost è un materiale di per sé umificato, non occorre che sia umificato tantissimo. L'importante è che lo sia nella giusta quantità e le norme lo prevedono. Determinare, ad esempio, il contenuto di sostanze umiche. Le sostanze umiche sono un fattore chiave di resilienza, di stabilità, impediscono l'erosione del suolo, conservano i nutrienti, favoriscono l'assorbimento delle sostanze xenobiotiche, eccetera. Poi, da un punto di vista meramente tecnico, basta misurare il rapporto carbonio-azoto per capire qual è la dinamica della mineralizzazione dei nutrienti. E quindi, altra misura che oggi si può compiere con grande facilità, con norme internazionali, è la misura della cinetica di mineralizzazione. Tutte queste informazioni le possiamo avere, le possiamo fornire per un uso molto corretto, opportuno, in questo caso del compost. Io vi ringrazio dell'attenzione e, ripeto, se vogliamo fare dell'economia circolare, dobbiamo innanzitutto non, scusatemi, avere la puzza sotto il naso. Cioè, dobbiamo trattare tutte le biomasse potenzialmente utilizzabili. E infine dico, come chimico del suolo, con formazione agronomica, dico, non dobbiamo correre nell'errore, cadere nell'errore di avere una concezione museale del suolo. Il suolo è un sistema vivente che va aiutato a crescere, a svilupparsi, a vivere. Guai a tenere il suolo e immaginare il suolo come un soprammobile che non si deve toccare. Il suolo deve essere in grado di funzionare come una bellissima auto da corsa. Grazie a voi. Grazie, professore, anche per questo bel messaggio finale, insomma, che restituisce vitalità a una cosa che viva è e come tale va trattata e solo attribuendole proprio questo attributo della vitalità possiamo comprenderne e valorizzarne maggiormente l'importanza. A questo punto la parola, anche per entrare un po' nel vivo di esperimenti, di attività che cercano di valorizzare queste risorse, io ho il piacere di chiamare nel nostro panel Walter Ganatini, che è il coordinatore scientifico del progetto Frasole, al quale do il benvenuto e poi chiederei di raccontarci un po' più da vicino questo progetto appunto e farci anche un po' vivere l'esperienza di Assisi che dobbiamo in qualche modo provare da distanza in quest'anno. La ringrazio molto e sono estremamente grato al Consorzio Italiano Compostatori per l'invito di essere con voi oggi, in questa giornata estremamente importante. Massimo Centemero è persona a me molto cara, è un amico di grande competenza e di grande valore, oggi ha aumentato il suo valore ai miei occhi perché mi ha tolto 20 anni di vita di vecchiaia perché faceva riferimento a 20 anni fa. In effetti io ho cominciato Massimo a condurre la prima esperienza sul compostaggio di rifiuti organici nel 1976, come sai a CRPA in ambito CNR e scrissi la risorsa rifiuti dove c'era capitoli cruciali sul tema della sostanza organica nel 1978. È stato grandissimo si è qui lo spessore degli interventi e così sarà dopo il mio sia a Bonacoso che al professor Ciavatta. Al professor Ciavatta posso ricordare che quando cominciamo a lavorare al suo posto a Bologna, io mi ero laureato da poco con Balzani a chimica e al suo posto c'erano, a proposito di microelementi, il professor Casaricchio, c'erano il professor Rossi. È una grande, e lo si è visto anche oggi, un grandissimo valore quella della chimica agraria nel nostro paese. Per quanto concerne il progetto Frasole posso solo dire che è stata una gioia molto grande, un'emozione molto grande assieme a Giuseppe Lanzi, Andrea Di Stefano e Massimiliano Muggiano, entrare come dire nella squadra che inizialmente si mise al seguito dell'intuizione, noi chimici siamo un po' preparati, di un ingegnere che si chiama Framauro Gambetti che oggi è il cardinale di Santa Romana Chiesa, e questa intuizione si tradusse in un progetto per portare alla transizione ecologica ed energetica il Sacro Convento, il complesso monumentale. È stata un'esperienza straordinaria nel condurre la quale ci siamo attenuti, con il contributo di tanti partner di progetto, ci siamo attenuti al principio del massimo rigore, come dire, si posso dire anche scientifico, comunque metodologico, in modo che i progetti che compongono il progetto complessivo avessero una valenza indiscutibile sul piano tecnico-scientifico e si basassero su un'analisi molto accurata dell'esistente e soprattutto generassero un percorso e dei risultati che fossero certificabili. Da qui nasce uno dei contributi importanti che è il disciplinare dei progetti Frasole per tutto quel mondo che sta nascendo dopo il dono grande che ci ha fatto Francesco che anche Massimo ha richiamato con la laudato sì. D'altro canto il video di cui ci ha fatto Dono Centemero mi consente di dire che oggi la parola sul progetto naturalmente compete a Frantonello Fanelli che saluto e di cui è estremamente apprezzato il contributo e attraverso di lui saluto il nuovo padre Custode Moroni che è molto attento al progetto e ai suoi sviluppi. Colgo l'occasione, proprio perché ho la barba bianca, della presenza a questo seminario così importante per dire che oggi dobbiamo essere capaci e dobbiamo imporre con forza, con ogni azione possibile. La crucialità del tema nell'ambito dell'unica cosa seria che abbiamo davanti in questo momento di tre crisi sistemiche che non solo incombono ma che intrudono nella nostra vita tutti i giorni, dalla crisi climatica alla crisi sistemica della finanza dissennata globale che ha generato e genera sofferenze e disuguaglianze alla crisi pandemica che è arrivata e che ha una qualche relazione come è già stato ricordato da buon accorso anche con le altre due. Oggi il tema base è il Green Deal, il Green Deal europeo. Io sono come dire notoriamente di non buono carattere quindi guardo con estrema preoccupazione ciò che sta accadendo nel nostro paese quando si parlava, si straparlava di centinaia di progetti per centinaia di miliardi di euro dicendo che sarebbero arrivati centinaia di miliardi. Per essere credibili rispetto all'appuntamento con il recovery fund occorre come dire parlare il linguaggio dell'Europa. Il linguaggio dell'Europa è il Green Deal, il suolo è una componente fondamentale di questo ragionamento, chi meglio del professor Cialat poteva descriverlo con una chiarezza delicastica, per metterci in condizione di sfuggire a procedure di infrazione e sanzioni come già sta accadendo per gli sforamenti dell'inquinamento atmosferico, per la mancata riporazione delle acque, per le mancate boniche e così via. È urgente come dire che noi si sia molto chiari e che parliamo il linguaggio dell'Europa anche in materia di suolo, di rischi di aridificazione legati al cambiamento climatico, la subtropicalizzazione anche della nostra realtà territoriale e per quanto concerne il ruolo della sostanza organica. Da questo punto di vista Massimo ricordava enormi difficoltà ad introdurre in normativa, ci abbiamo provato in tanti modi possibili anche con ministri molto attenti all'epoca a partire da Giorgio Luffolo, ma c'è un deficit proprio culturale terrificante da questo punto di vista. Hai ragione a dire che anche a livello dell'Unione manca il tema, ma il problema base è che se uno va in Francia o va in Germania, le normative basiche di pianificazione territoriale fino alla paesaggistica e così via, hanno già un fior di norme che ad esempio fanno sì che in buona parte d'Europa si vada ad intaccare la risorsa più limitata che abbiamo e di straordinario valore strategico come il suolo, soltanto lavorando come è stato ricordato anche da Bonaposso, sul brownfield, per tutelare il più possibile il greenfield. Queste cose si fanno, mentre in Italia il consumo di suolo, come dimostrano gli ottimi lavori di Murafo di Ispra, è una tremenda, come dire, consecuzio di atti devastanti in un paese che ha il 19% di aree di pianura, che parte quando va bene e non abbiamo ancora una carta pedologica completa, una carta geologica completa, ma abbiamo il 19% di aree di pianura in buona parte della padana, quando va bene il 3% di organico, ma dove c'è stata la monocultura intensiva, prima di mais e poi di barbabietola, come diceva il professor Ciavatta, abbiamo intere aree che, come dire, in base anche alla legge dei rendimenti decrescenti, hanno ormai la sostanza organica che vale tra l'1 e il 2, quindi in preda, scientificazione e modificazione, come ha detto perfettamente lui, allora da questo punto di vista abbiamo l'81%, l'80% del territorio colinare montano, con forte propensione al dissesto, che ha un bisogno straordinario di manutenzione, il suolo deve essere un proprio oggetto della tutela più rigorosa e più rigida, va, come dire, continuamente ripristinato fin dove è possibile, grazie al riciclaggio di rifiuti organici, la sua dotazione di sostanza organica e di fertilità naturale, sapendo che per l'appunto ne abbiamo poca rispetto ad esempio alle grandi pianure centosettenzionali europee, quindi il tema del compostaggio, lo scopo sociale del CIC è priorità 1, ha una validità assoluta e dobbiamo esigere in ogni modo possibile che Parlamento, Governo, i territori, i governi regionali, come dire, si rendano coerenti, anche solo per cercare di aumentare le nostre possibilità di accesso alle risorse del recovery fund in questo campo. Io dottor Galapini le devo chiedere ancora un minuto per chiudere, perché è un messaggio molto simbolico e direi che questo secondo me può essere… Ho finito, nel senso che come tutti sappiamo al discorso del compostaggio si associa oggi il discorso del trattamento anche anaerobico con il recupero sia di una fonte rinnovabile che è ancora una volta il digestato che può essere poi lavorato per essere disponibile per l'agricoltura. Oggi quindi io vedo due priorità e ho finito. Uno, il CIC deve assolutamente essere, per quello che è possibile daremo ogni mano possibile, protagonista del percorso verso il Green Deal europeo. Due, ho citato il biometano per dire che purtroppo dobbiamo lavorare molto, anche qui c'è bisogno di tutti, per recuperare quello che abbiamo perso in questi anni in termini di credibilità delle istituzioni nei confronti dei cittadini. Massimo sa, e altri di voi forse ricorderanno che ho sempre combattuto contro la nozione NIMBY, spiegando che in Europa NIMBY stava tra le cause di conflitto ambientale, ma è sempre stato fra il sesto e il settimo posto. Questo dal 1990, per un progetto Iureka ad hoc per misurare le cause di conflitto ambientale e quindi teorizzare NIMBY, 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 la gente non vuole. Quando le persone ricevono un progetto serio, con le garanzie necessarie, con i controlli necessari difficilmente ragionano con la pancia emotivamente. Purtroppo però in questi anni molto è stato fatto perché decrescesse la fiducia nelle istituzioni. La sindrome che dobbiamo aiutare a combattere è comunque la prima causa e è sempre stata l'altra. Not in my terms of office. Lo scarico a barriere delle istituzioni, il non fare il proprio mestiere. Chi ha mai lavorato a Milano sa, e Massimo lo sa bene, che il termine basico è offere falto miste. Nel nostro paese purtroppo, per mille motivi, inclusi motivi legati alla presenza criminale nel mondo dei rifiuti, nel nostro paese spesso coloro che avrebbero subito dovuto attuare le leggi passavano il tempo a cercare di eluderle o evaderle. Bene, grazie professor Ganapini per questo, diciamo, veramente anche un'ibettiva anche molto forte, ma indirezzata sicuramente a tutta una serie di snodi su cui poi tanta dell'innovazione in termini di sostenibilità si è purtroppo arenata ed è importante sollevare questi temi perché non si può rilanciare chiaramente un grande progetto come quello del green deal europeo se non si va neanche a incidere su quelle che sono stati le ruggini che non hanno consentito alla macchina di funzionare bene finora. Assisi, diciamo, lui in parte l'ha richiamata, ora però con noi abbiamo anche padre Antonello Fanelli che coordina il progetto Sostenibilità del Sacro Convento, appunto di San Francesco, il quale ci dà un po' il suo osservatorio che è proprio sul territorio. Benvenuto e a lei la parola. Grazie, pace a voi da parte di tutta la comunità del Sacro Convento, in particolare dal nostro custode nuovo, custode padre Marco Moroni e anche dal neoeletto cardinale padre Mauro Gambetti che ha seguito finora il percorso anche del nostro progetto Frasone. Un saluto di pace appunto a tutti voi, sorelle, fratelli, tutti e mi permetto di dare il mio contributo per quello che è certamente non la competenza in materia tecnica e scientifica come finora molto riccamente, molto bene è stata espressa, ma dando un piccolo apporto spirituale. Forse ecco è anche questo stato nel corso di questi anni il mio contributo. Abbiamo parlato di Laudato Sil, l'input che ha dato il via al nostro progetto Frasole, progetto di sostenibilità, dove ci ponevamo la domanda, come abbiamo sentito anche nel filmato, cosa possiamo fare e cosa posso fare io. E abbiamo visto che questo ci aiuta, ci sostiene e alimenta quella necessità di curare il suolo, come abbiamo detto finora, perché è elemento di vita, è elemento di sussistenza, di nutrimento e anche prenderci cura, come è stato ben detto e spiegato anche per le motivazioni appunto che va preso cura di questo elemento organico, vivo, vitale, non un pezzo da museo da mettere sopra lo scaffale. Quindi ecco è necessario continuare quest'azione, è necessario continuare perché ecco dall'esperienza che noi anche stiamo vivendo concretamente col progetto Frasole, come dire, è necessario rinnovarci sempre, questo sì, riprendere sempre in mano la questione di cosa posso fare e aggiungo un elemento nuovo che poi ce l'ha posto ancora Papa Francesco, perché sono chiamato a fare questo? Ce lo siamo un po' accennato, ma Papa Francesco con la Fratelli Tutti vuole darci degli elementi in più, quindi da laudato sì che ci spingeva anche con tante motivazioni accanto a farci la domanda cosa possiamo fare ma anche perché possiamo e siamo chiamati a fare qualcosa e credo che l'attenzione a uno degli elementi fondamentali della nostro essere la terra, la madre terra, il suolo ci richiama anche ad altri elementi fondamentali che sono soprattutto quelli relazionali, noi uomini, esseri umani e gli esseri umani, la nostra umanità è chiamata a rimettersi in gioco perché? Perché prenda coscienza di quanto è importante il rispetto reciproco. Papa Francesco nella Fratelli Tutti sottolina un aspetto, lo ridico, il virus del nostro tempo, l'indifferenza, l'indifferenza, quindi se siamo indifferenti gli uni e gli altri siamo indifferenti anche a ciò che ci circonda, a ciò che stia intorno, quindi quel grido, quel richiamo molto bello che Walter ha appena fatto, la necessità che tutti possano prendere coscienza di ciò che sono e di ciò che sono chiamati a essere, a operare e mi pare un elemento veramente bello e ricco, arricchente di questa riflessione. Per accogliere l'altro direbbe San Francesco è necessario fargli spazio, mettersi un po' da parte, è necessario fare in modo che anche l'altro possa arricchirmi del suo essere, del suo pensiero, della sua riflessione e questo ecco se volete è un po' l'aspetto più spirituale che mi permetto di di apportare in questa riflessione. Ecco, questo stare insieme, ascoltarci, questa piattaforma anche un po' strana, nuova, ma un modo che ci permette comunque di continuare a dialogare, a conoscerci, ad approfondire le tematiche per essere più coscienti e essere più consapevoli di perché è importante fare qualcosa oggi per questo nostro pianeta. Ecco, è un qualcosa che diceva già Papa Francesco nella laudatosi, è un dono, l'abbiamo ricevuto gratuitamente, tutti siamo chiamati a custodirlo. Ecco, questo è un impegno di tutti, un impegno che va sempre rinnovato continuamente e è necessario che veramente ora impariamo a farlo insieme. L'altro non è qualcosa di esterno a me che mi sta semplicemente accanto, ma l'altro è una parte di me e insieme possiamo veramente creare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, cioè partecipare a questo piano della creazione che Dio ha fatto per noi. Grazie a tutti per l'ascolto e la disponibilità. Grazie, grazie a lei padre Antonello Fanelli anche per questo messaggio di speranza e di relazione che penso che quanto mai è necessario anche dal punto di vista individuale di ciascuno, visto i momenti in cui ci troviamo, ma a maggior ragione secondo me rilancia anche insiste su quel tema della rete che abbiamo visto attraverso le competenze e le differenze di ciascun relatore quanto però possa essere importante per portare avanti e costruire dei progetti veramente sostenibili di lungo periodo per garantire una sostenibilità al nostro futuro. Allora aggiungiamo un altro tassello a questo quadro di diversi suoli da cui germogliano le competenze dei nostri relatori. Io passo la parola a Marco Giacomazzi che è il Policy Officer dello European Compost Network e che ci spiegherà anche un po' il ruolo di questa realtà europea, visto che abbiamo capito, ce l'ha ripetuto Walter Ghanabini, Bonacorso, Centenevano stesso, l'importanza dell'Europa e di un lavoro di squadra dei paesi europei per poter costruire un progetto credibile di economia sostenibile. Allora Giacomazzi a lei la parola. Grazie Luca Zorloni per questa introduzione, ringrazio anche il direttore del Consorzio Italiano Compostatori Massimo Centemero, tutti i partecipanti e i relatori di questa giornata, nonché Alessia e Matteo di RiciclaTV che ci permettono appunto di discutere e di dialogare tra di noi. È un piacere e un onore festeggiare e celebrare la giornata mondiale del suolo con questa tavola rotonda. Dopo un'ora di dibattito, magari parlare delle politiche europee non sarà la cosa più emozionante ed eccitante, ma cercherò di essere breve nel mio intervento, introducendo brevemente che cos'è lo European Compost Network, cioè un'associazione europea che è stata creata per volontà dei suoi membri per promuovere le pratiche sostenibili di riciclo della risorsa organica di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi del compostaggio e della digestione anaerobica e ci siamo dati una visione che è quello che cerchiamo di realizzare, cioè che è possibile vivere bene rispettando i limiti del pianeta e il ciclo delle risorse rinnovabili. Ad oggi lo European Compost Network rappresenta 64 membri che provengono da 27 paesi europei e che rappresentano quindi un settore molto importante per, chiedo scusa, mi è partita la presentazione, adesso ritorno indietro, dicevo che rappresentano un settore molto importante costituito da quasi 4.500 impianti sul territorio europeo che operano tutti i giorni e che ogni anno circa riescono a riciclare 48 milioni di tonnellate di risorsa organica. Abbiamo ascoltato il professor Ciavatta spiegare quali sono i benefici dell'utilizzo del compost soprattutto in agricoltura e abbiamo ascoltato anche in che modo è importante garantire la qualità di questi prodotti che vengono certificati attraverso un sistema nazionale di verifica di compatibilità. Ed ecco, io ci terrei a sottolineare come nell'ambito dello European Compost Network i nostri membri provenienti da tutta Europa abbiano effettivamente accettato, abbiano concordato delle linee guida europee che permettessero a tutti i paesi di certificare la qualità non solo dei prodotti ma anche dei processi che portano appunto a riciclare queste materie. E non è un caso che l'Italia, che è un faro come diceva Massimo Centemero, una delle migliori pratiche in Europa, si sia resa protagonista di questo lavoro e che sia uno dei primi paesi che abbia effettivamente offerto questa opportunità. Parlerei quindi ora della situazione suolo per le politiche europee. È già stato appunto citato il Green Deal, che è questa nuova strategia adottata nel dicembre del 2019, nell'ambito del quale a maggio la Commissione europea ha adottato la strategia per la biodiversità. La strategia per la biodiversità ha riservato un capitolo in particolare al tema suolo e ha stabilito quelli che sono gli impegni e le misure che dovranno essere adottate tra il 2021 e tra il 2022. In particolar modo nel tema suolo ci saranno tre cose importanti da fare. In primo luogo rispettare gli impegni internazionali che sono stati presi in ambito delle Nazioni Unite nel 2015, quando si è sottoscritta l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In questa agenda ci sono molti obiettivi, tra i quali figura anche quello di impegnarsi per raggiungere la neutralità di degrado del suolo. Per rispettare questo impegno, quindi l'anno prossimo, nel 2021, la Commissione aggiornerà la strategia tematica per il suolo, che era stata abbandonata in seguito ai fallimenti del 2006 e del 2012, ma inoltre presenterà un altro piano d'azione a tema di inquinamento zero per il capitale naturale, quindi non solo per il suolo ma anche l'aria e l'acqua. In secondo luogo ci saranno delle nuove azioni e dei nuovi obblighi e obiettivi imposti internamente dagli Stati dell'Unione, quindi la Commissione presenterà degli obiettivi obbligatori per il ripristino degli ecosistemi degradati e in particolar modo questi obiettivi saranno dedicati a quegli ecosistemi che potenzialmente sono in grado di catturare e stoccare il carbonio, nonché di ridurre e di prevenire l'impatto delle catastrofi naturali e quindi sicuramente si parla del suolo. Ci saranno altre azioni legate all'inquinamento soprattutto da nutrienti, verrà proposto un piano d'azione integrato per la gestione dell'azoto e del fosforo di concerto tra la Commissione e gli Stati membri e verranno anche toccate la questione dell'impermeabilizzazione del suolo e la riqualificazione dei siti dismessi contaminati attraverso una nuova strategia che sarà adottata l'anno prossimo nota come strategia per un ambiente edificato sostenibile. Mario Bonaccorso ha anche citato il terzo punto cioè la missione prodotti alimentari e salute del suolo che entrerà a far parte del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe che coprirà gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione tra il 2021 e il 2027 quindi per i prossimi sette anni. Concretamente gli impegni quindi che si sta prendendo a livello europeo nell'ambito della strategia per il suolo sono quelli di proteggere la fertilità riducendo l'erosione del suolo e aumentando in particolar modo la materia organica che dovrebbe essere contenuta e ci si auspica che questo possa essere fatto soprattutto grazie agli enormi investimenti che possono essere fatti nell'ambito della politica agricola comune che sarà adottata molto probabilmente nel 2021 ma che comincerà a finanziare effettivamente le attività solo a partire dal 2023 ma ci si immagina che possa effettivamente fornire un grande contributo. Altri impegni riguardano il censimento dei siti contaminati per capire dove è importante agire, impegnarsi per ripristinare i suoli degradati, come dicevo prima introdurre degli obiettivi obbligatori di ripristino ma soprattutto migliorare il monitoraggio della qualità del suolo proprio per questo impegno segnalo che questa mattina il JRC cioè il centro comune di ricerca della commissione europea che ha sede a Ispra sul lago maggiore in provincia di Varese ha inaugurato il nuovo osservatorio europeo per il suolo dove appunto tutti i monitoraggi e i dati verranno centralizzati e raccolti per poter adottare delle si spera soluzioni efficaci ed efficienti per i prossimi anni. Quindi il ruolo di ECN nelle politiche europee è ovviamente di portare la voce del settore e di contribuire a quelli che sono gli obiettivi e le misure che dovrebbero essere adottate e messe in atto e io non posso fare altro in questo senso di ringraziare Massimo Centemero e tutto il Consorzio Italiano Compostatori che mi aiutano e ci aiutano nel nostro lavoro giornaliero Massimo è membro appunto del direttivo di ECN e abbiamo inoltre molti rappresentanti dall'Italia che presiedono i lavori dei nostri gruppi di lavoro. Ringrazio quindi Marco Ricci che presiede il gruppo di lavoro per i materiali compostabili, Alberto Compalonieri che presiede il gruppo di lavoro sul suolo e sulla sostanza organica e Michele Giavini che presiede il gruppo di lavoro sulla raccolta differenziata e che sottolineano l'impegno del Consorzio in Europa. Cosa facciamo noi durante queste riunioni? Cerchiamo di concordare delle posizioni comuni perché il settore ha magari delle diverse operazioni tra diversi paesi europei, può funzionare in un modo in Italia, in un modo in Germania, in un modo in Olanda e si cerca di concordare una posizione comune per effettivamente poi portare la voce alle istituzioni dell'Unione Europea. Quest'anno infatti abbiamo già partecipato a sette diverse consultazioni. Io non mi dilungherei oltre e restituirei quindi la parola a Luca Zorloni e ringraziando tutti per la possibilità di questo intervento. Grazie, grazie Giacomazzi, anche le politiche europee sono state un argomento digeribile grazie alla sua spiegazione puntuale e rapida nonostante sia venerdì pomeriggio, quindi io la ringrazio molto di questa relazione particolarmente diciamo diretta e puntuale. A questo punto proseguiamo con una storia di impresa, diciamo così, sempre per raccontare non il suolo ma i suoli. Un suolo al femminile, quello che raccontiamo ora con l'intervento di Lella Miccolis che è amministratore unico di ProgevSRL, componente anche del Consiglio di Amministrazione proprio del Consorzio Italiano Compostatori e in qualche modo lei ci racconta come una donna ha fatto impresa diciamo in un settore tradizionalmente maschile ed è importante anche portare questi esempi per garantire quella inclusione necessaria a una economia sempre più reattiva e sviluppata. Quindi ringrazio della Miccolis di averci raggiunto e le passo la parola per raccontarci appunto in breve il suo contributo a questo nostro pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Oggi mi sento fortunata perché sono in ottima compagnia e ringrazio il massimo centenaro di cuore per avermi chiesto di intervenire. Io non sono un'esperta di suolo, non sono un'esperta di rifiuti, sono un'operatrice di settore, sono un'imprenditrice del sud di prima generazione in un settore difficile, complicato, quasi a depannaggio esclusivo maschile. Noi amiamo definirci come una società che ha investito nella produzione di fertilizzanti organici mediati compostaggio. Sembra la stessa cosa di dire siamo un impianto di trattamento di rifiuti organici, ma in realtà non è così, perché le parole spiegano un concetto diverso. Noi volevamo fare un dono alla nostra terra. Quando abbiamo cominciato, io sono biologa, avevo studiato che nel nostro territorio soffriva tantissimo di desertificazione, di erosione del suolo, di perdita di biodiversità, che traducendolo nel linguaggio agricolo significa perdita di produttività. Perdita di produttività significa che, diciamo, non alla lunga ma alla breve, il nostro territorio non avrebbe, che ha forte, fortissima vocazione agricola, non avrebbe più prodotto quelle eccellenze agroalimentari di cui si può vantare e sono apprezzate e conosciute in tutto il mondo, perché il nostro, ovviamente il settore agricolo e di conseguenza quello alimentare sono, diciamo, che il settore dominante nel nostro territorio. Quindi noi volevamo produrre fertilizzanti organici partendo dall'etame. Perché? Perché l'etame è il, diciamo, il primo fertilizzante della storia, perché nella zona in cui noi ci siamo insediati ce n'era, diciamo, in quantità significativa. Poi un giorno ho partecipato ad un corso di formazione in cui io ho incrociato, ringrazio sempre quel giorno, Massimo Centemero ed Enzo Favuino, che mi hanno spiegato, era un corso sulla gestione integrata dei rifiuti, che ovviamente si conciliava con il detrito Ronchi che ha portato una rivoluzione nella normativa di settore. E lì mi hanno spiegato qualcosa che io non sapevo, che non avevo studiato, di cui non c'erano esempi significativi al Sud Italia e in Puglia, dove io sono, mi hanno insegnato che portare, conferire rifiuti organici, discariche piuttosto che in un incenditore è un destino improprio e che invece andava, diciamo, riciclato o meglio ancora andava recuperato. Quindi un rifiuto che si trasforma in una risorsa e questa risorsa è un fertilizzante. E quindi mi si è accesa la lampadina, ho detto ma perché devo partire dall'etame? C'è una materia prima, perché così mi piace definirla, c'è una materia prima nobile, a disposizione in grandissima quantità, disposizione tutto l'anno e disponibile anche nel mio territorio. Solo che noi ci siamo poi, diciamo, scontrati contro un problema che era quello che in quel periodo la Puglia, come molte regioni del Sud Italia, ancora non differenziavano il rifiuto organico. Sebbene, come le statistiche ci raccontano, fatto 100, nella composizione del rifiuto, diciamo, dal punto di vista merceologico, la frazione organica al Sud rappresenta una percentuale molto alta, circa il 50%. Però noi non ci siamo, diciamo, abbattuti, perché facendo un'indagine di mercato, come gli imprenditori devono sempre fare, ci siamo resi conto che avevamo una posizione geografica strategica, cioè eravamo vicini alla Campania. E la Campania, in quel momento, grazie al fatto che non ci fossero più discariche, quindi siti di smaltimento, aveva cominciato a fare raccolta differenziata dell'umido con, diciamo, percentuali molto alte. Però non c'erano impianti che potessero, diciamo, ritirare questo umido. Ancora, ricordo, purtroppo devo andare molto velocemente, la storia è lunga e anche abbastanza romanzata, ricordo perfettamente il giorno dell'inaugurazione dell'impianto Progeva. Io avevo commesso un'ingenuità, avevo inserito sulla home page del sito, nell'invito a questa l'inaugurazione, il mio cellulare. Il mio cellulare era scottava, perché si era sparsa la voce che sarebbe aperto un impianto, quindi sarebbe nato finalmente, diciamo, ad un raggio chilometrico, diciamo, tutto sommato accettabile, un impianto che potesse ritirare i rifiuti organici raccolti di maniera differenziata nella Campania. E niente, così, diciamo, è nata la nostra attività imprenditoriale. Fortunatamente di di a poco tempo anche la Puglia e alla Basilicata, la Calabria, comunque anche le regioni vicine hanno cominciato questo, diciamo, questa operazione virtuosa della raccolta differenziata del rifiuto organico, per cui noi possiamo anche servire la regione che ci ospita. Ma voglio tornare a quello che ho detto all'inizio, che il nostro obiettivo era quello, sì, di trattare i rifiuti organici, ma era quello di considerarli una materia prima nobile a dare fertilizzanti. Il primo fertilizzante è il compost, compost che, come è stato detto, diciamo, molto bene, molto meglio di me, dal professor Ciavatta, deve essere un buon compost, un compost di qualità, un compost standardizzato, che derivi da un processo altrettanto standardizzato, assistito da tecnologie all'avanguardia, che diano impatti sull'ambiente, non dico zero, azzerati, ma comunque minimizzati al massimo, i processi devono essere certificati e questo compost deve rispondere sempre, ogni giorno in cui viene prodotto, alle severe normative in tema di rifiuti. Prima c'era solamente quella nazionale, adesso c'è anche quella europea a cui dobbiamo rispondere, che è ancora più severa. Lella Piccoli, se io le chiedo di andare alle conclusioni. Sì, allora voglio dire che questo compost noi fin dall'inizio l'abbiamo valorizzato ulteriormente, non l'abbiamo lasciato esclusivamente allo stato polvuro lento e alla rinfusa, ma come un buon imprenditore deve fare, abbiamo ascoltato quelle che erano le esigenze degli utilizzatori quali ci chiedevano che dovesse essere più facilmente impiegabile, quindi più facilmente sparso, distribuito sui suoli. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Prima di tutto l'abbiamo confezionato, adesso lo cubettiamo in maniera tale che possa essere distribuito al suolo con non solo con gli spandi compost che sono poco utilizzati dagli agricoltori, soprattutto quelli che hanno degli etaraggi importanti, ma con i normali spandi concime già in dotazione alle aziende agricole. Questo ci ha consentito non solo di uscire con una varia formulazione, quindi una gamma di prodotti, un catalogo, così come ci è richiesto dal mercato, ma di andare oltre un raggio d'azione breve che poteva essere quello della nostra provincia o al massimo della nostra regione, noi arriviamo con i nostri prodotti fino alla Liguria e siamo presenti all'estero, soprattutto in quei territori che soffrono come noi del fenomeno della desertificazione. Voglio concludere dicendo due cose brevissime, una che noi ci consideriamo un esempio concreto di economia circolare, siamo una società rigenerativa e lo siamo al punto tale che abbiamo generato altre società nel settore affine per noi, quello dell'agricoltura, quello dell'agroalimentare e abbiamo creato circolarità anche tra queste società perché il nostro compost valorizzato come substrato di coltivazione viene utilizzato nelle nostre serre e invece il nostro compost valorizzato come concime invece viene utilizzato nei suoli coltivati a legumi e cereali che poi noi trasformiamo e vendiamo. Bene, benissimo, grazie a Lella Miccolis per questa bella testimonianza di impresa dal sud, dal femminile, una storia insomma di una realtà che poi come vedete appunto da un'idea ne gemmano tante altre e tutte si tengono perché questa è la forza dell'economia circolare, allora l'ultimo intervento appunto è un saluto dagli Stati Uniti da parte di Frank Franciose, appunto managing director dello US Composting Council, lo chiedo alla regia se gentilmente lo manda in onda, grazie. Bene, grazie a Frank per questa pillola, per questo saluto dagli Stati Uniti, allora apriamo finalmente lo spazio alle domande, ne sono arrivate tante, io chiedo a tutti i relatori di tenersi pronti perché ce ne sono un po', inizio, non so se la regia ha pronte anche già dei cartelli con le prime che sono arrivate, altrimenti le leggo io, allora benissimo, c'è quella di Canale Energia appunto per Mario Bonaccorso, chiedono appunto, ha fatto l'esempio del recupero dei terreni da industria dismesse, insomma qual è il costo che ha questa rigenerazione del suolo e servirebbero incentivi per favorire secondo lei azioni del genere? chiedo a tutti di rispondere in due minuti, siete sintetici così diamo spazio a tutte le domande. Prego Bonaccorso. Beh, io posso rispondere molto velocemente che i benefici superano sicuramente i costi, allora sono investimenti importanti, l'Italia non è priva di inizianti dismesse, molto spesso abbandonati in Canale, ma io credo che i progetti, come per fare un esempio molto concreto, quello che la terbioteca di Nova Monti, realizzata in Veneto, dove un impianto chimico, l'ex Anajimoto, abbandonato, è stato riconvertito nella prima biorasteneria al mondo per la produzione di 1,4 butandiolo da biomassa, questo sia un esempio virtuoso, investimenti certamente importanti che hanno bisogno di un contributo da questo punto di vista, sempre molto velocemente, credo che il Green Deal sia un'opportunità e per superare quel timore concreto a cui accennava Ganatini, credo che il Green Deal debba essere davvero inserito in una strategia di sviluppo e in una visione che il Paese deve avere a lungo periodo su come decarbonizzare e su come fare investimenti in un'ottica che possa sempre di più tutelare l'ambiente. Bene, grazie, buon accorso. C'è qualche altra domanda, so che ci sono, eccola qua, l'ego delle città rivolta a Massimo Centemero, prima è stata citata Milano, quale dovrebbe essere il contributo maggiore delle città medio-grandi nella difesa del suolo? E domandano, come è cambiato in questi anni secondo la vostra esperienza? Ah, ho acceso il microfono. Eccoci. Grande città. Allora, innanzitutto diciamo, rispondo un po' a punti successivi, nella speranza che siano tutti collegati. Milano, l'abbiamo citata non a caso perché di fatto ci troviamo con una città di un milione e mezzo di abitanti, ma è l'agglomerato urbano nel mondo più grande che fa la raccolta differenziata dello scarto alimentare, quindi dell'umido. Quindi questa è la prima cosa. La seconda, anche l'Italia è un paese che raccoglie 45 milioni, cioè che interessa, dove la raccolta differenziata dell'umido interessa 45 milioni di abitanti. Ne mancano 15, quindi siamo ben avanti, ma non abbiamo ancora raggiunto il traguardo e mancano soprattutto le grandi città, quindi i grandi capologhi di provincia. Adesso non vi sto qui a citare uno a uno, in alcuni ci sono alcune esperienze pilota, però situazioni estese e integrate, come per di Milano, non c'è da nessun'altra parte, a meno nei capologhi di regione. L'altra cosa da dire, sempre legata alla città, qui io non mi collegherei tanto alle grandi città, ma un tema che non abbiamo trattato, ma secondo me è collaterale ed è per me altrettanto importante, è da sempre c'è questo binomio o io dico dualismo tra quella che è la città e quella che è la campagna, intesa come agricoltura, come diciamo ambiente esteso. Parlavo di questo binomio che diventa alcune volte, cioè molte volte è dualismo e dovrebbe diventare invece binomio, ovvero attenzione che il professor Ciavatta si ricorda benissimo perché tutti gli studi, io ho studiato molte volte anche sui suoi libri, a Milano i benedettini hanno creato le marcite. Che cosa erano le marcite? Sfruttavano quelli che erano i reflui, quindi quelli che oggi si chiamano fanghi civili, della città di Milano per costruire un sistema imprenditoriale agricolo basato sul prato stabile, che normalmente aveva 4-5 tagli e con le marcite si riuscivano a fare 11-12 tagli. Quindi vedete che 700-800 anni fa già c'era questo binomio città e campagna che adesso è un po' sparito. La domanda diretta è cosa si potrebbe fare, ma almeno per quanto riguarda il nostro settore, al di là delle cose che abbiamo detto prima, ovvero sviluppare le raccolte su tutte le grandi città, ma ricordiamoci anche il tema del verde urbano. Perché tanti mi chiedono, ma il compost? Il compost per il 90% va in agricoltura, ma dal mio punto di vista il settore di elezione per l'utilizzo del compost potrebbe essere esattamente la città. Il futuro delle nostre città è costruire degli spazi verdi, fluibili, per il benessere del cittadino, che richiedono sostanza organica. Quindi riportare un po' di campagna in città e quindi riportare un po' di sostanza organica in città e non va fatto solo con la limitazione di quella che è la cementificazione, ma anche con le pratiche di riutilizzo, come diceva Lella, di un rifiuto che è diventato una risorsa. Certo, insomma, sempre questa idea che la circolarità si costruisce dando sempre una nuova vita a quello che già esiste. Allora, so che c'è un'ultima domanda da Rocco Bellantone. La nuova ecologia è rivolta a Marco Giacomazzi. Come si dovrebbero investire le risorse in arrivo con il Next Generation Yule Recovery Fund per tutelare la qualità del suolo? Poi domanda se l'Unione Europea ha anche una strategia condivida su questo punto e l'Italia che ruolo si sta ritagliando? Insomma, tante domande per precisare e tagliare questo tema, Giacomazzi, a lei in due minuti sintetizzarle. Ok, in effetti qui abbiamo diverse domande. Sicuramente io riprenderei quello che ha appena detto Massimo Centemero, quindi non solo di potenziare quella che è la raccolta e riportare anche la sostanza organica non solo in agricoltura ma anche sul verde pubblico, ma sono sicuro che ci sono molte altre idee provenienti da diversi settori e da diverse esperienze di azienda e di impresa e sicuramente buon accorso potrebbe farci degli altri esempi, ma come la stessa cosa potrebbe avvenire da altri lavoratori. Quello che io capisco dall'Unione Europea è che la capacità di spesa dei fondi è prerogativa degli Stati e difficilmente mi posso immaginare che la Francia o la Germania o le stesse Italia accetterebbero dei diktat da Bruxelles sulla decisione di come poter spendere quei soldi per quanto potessero essere delle bellissime proposte. Ogni Stato è estremamente geloso di questa autorità e di questo potere. E l'Italia, come tutti gli altri paesi, ritiene che problemi di natura nazionale vadano affrontati con strategie decise da politici di stampo nazionale. Stato di problemi del salotto europeo. Io a questo punto vedo che noi siamo giunti alla conclusione di questo nostro convegno della terra alla terra. Io però chiederei a Massimo Centemero di fare veramente 30 secondi di disunto di quello che è emerso e di saluto a chi ci ha servito. Sì, grazie, grazie a tutti voi. Ma guardate, io sono molto, come dire, contento della giornata di oggi. Mi fa molto piacere. Peccato che non siamo vicini a stringerci la mano, ma speriamo l'anno prossimo di farlo. Io volevo, come dire, mi sono appuntato un po' di delle parole chiave, no? Per dire cosa ci ricorderemo di questa giornata? Siccome tutti i relatori sono persone che io durante l'anno frequento ci sentiamo, scherziamo, ridiamo e soprattutto lavoriamo insieme, ho estrapolato una parola per ciascuno di loro e vorrei che questo rimanesse un po' la testimonianza di oggi, con un accorso semplice, bioeconomia. E attenzione, queste sono parole estrapolate, ma sono delle delle pietre, delle pietre miliari di quello che è questa giornata che, come avete capito, è interdisciplinare. Quindi oggi abbiamo parlato di clima, di suolo, di economia, di rifiuti, di compost, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Mario, bioeconomia, grazie. E professor Ciavatta, Claudio, fertilità, un'altra parola molto bella, una parola positiva, che, come dire, ci porta nel futuro. Fertilità organica poi è il nostro incipit, vabbè, quello è un altro ragionamento, però è la parola fertilità, la parola che io ho individuato come chiave. Walter, green deal, anche questo è un bellissimo termine. Walter giustamente diceva, sì, non ci devono essere solo propositi, dobbiamo fare in modo che questi propositi siano concreti e giustamente Marco dice, dipende dagli stati membri. Quindi Bruxelles ha aperto la propria cassa, adesso dobbiamo decidere a noi come spenderli. E tutti i nostri messaggi, tutti i messaggi di oggi devono assolutamente essere presi in considerazione. Frantonello, terra madre, quindi le parole che, come dire, un po' di verticalità, grazie Frantonello, un po' di verticalità ogni tanto ci vuole, a noi che siamo sempre orizzontali. Grazie, grazie Frantonello, grazie di tutto. Marco Giacomazzi, Soy Strategy, perché la dico in inglese, perché chiaramente lui lavora su Bruxelles, ci teniamo, Marco è molto bravo, è un policy officer italiano che lavora per SCN a Bruxelles, complimenti e speriamo di vedere la luce di questa Soy Strategy nei prossimi anni, so che è iniziata un percorso, una call che penso che dia i buoni frutti. E poi la Lella, la Miccolis. Io qui, le storie da raccontare, quando uno incontra la Lella, lei l'ha citato, eravamo io e Enzo, eravamo bambini, lei figuriamoci, io e Enzo eravamo bambini e lei ancora di più. La Lella ha una storia molto bella da raccontare, una storia imprenditoriale, fa un lavoro che gli piace, tra l'altro con Marino ha creato anche una fantastica famiglia, quindi è veramente una bella storia da raccontare con tutte le sue sfaccettature. Non ultima il fatto che una donna che fa l'imprenditore nel sud Italia, potete ben capire quali sono, come dire, le difficoltà oggettive a cui va incontro. Quindi ecco, con questo io vorrei un po' chiudere, salutare e ringraziare anche Luca, il moderatore di giornata e dirvi, andate nel sito di SOSOIL, perché abbiamo con SCN l'anno scorso lanciato a Bilbao questa piattaforma, questa alleanza sulla sostanza organica del suolo, SOSOIL significa Save Organics in Soil, cioè mantieni, sostieni la sostanza organica del suolo. Abbiamo creato un sito che è saveorganicsinsoil.org, entrate, firmate, aderite, perché solo con queste firme, con questo movimento riusciamo un po' a fare il passo avanti. Poi sapete che a me piacciono i passi concreti e anche oggi ringrazio Luca di questa giornata, aver coordinato questa giornata e penso che sia stata una giornata molto concreta. Grazie tante a tutti. Grazie Massimo Centemero, anche io penso che sia uscito tanto contenuto. Se posso aggiungo anche una parola chiave dal fronte di Wired che è innovazione, che sicuramente serve per poter far sì che per esempio la tradizione dei benedettini che tu ricordavi prima possa essere aggiornata ai nostri 2020 e essere quindi un'eredità portata avanti nel tempo e a questo punto io ringrazio tutti. Massimo Centemero, ringrazio Lella Miccolis, Mario Buonaccorso, Claudio Ciavatta, Walter Ganatini, padre Antonello Fanelli, Marco Giacomazzi e anche se non c'è connesso con noi ma distanta, Frank Franciosi. Ringrazio Ricicola TV per la regia, voi non li avete visti ma sono stati dietro le quinte, ci hanno dato una grandissima mano a mettere insieme questo evento. Non è semplice in questo periodo ma penso che anche dal livello tecnico avete visto che insomma ha funzionato molto bene, i contenuti ci sono, i nostri redattori sono a disposizione se ci sono altri spunti per poter proseguire il dialogo, a tutti l'augurio di una buona serata e di un buon fine settimana. Grazie. 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 Grazie.